Incidente nel pomeriggio di venerdì 15 luglio, poco prima delle 14.30, in Corso Italia arriva l'Olocanavese. Coinvolta una Volkswagen Tiguan e una Fiat 600. L'impatto è stato violento. La Tiguan si è ribaltata in mezzo alla corsia, mentre la 600 ha terminato la soccorsa contro una Fiat Grande Punto nella protezione civile di Rivara, parcheggiata. Sul posto è intervenuta la polizia locale, l'ambulanza del soccorso avanzato di Daluso e la Croce Bianca del Canavese. Ferite, ma non in pericolo di vita, le due donne alla guida dei mezzi, che sono state trasportate in ospedale.